Il CAI di Bergamo, nel corso di un convegno svoltosi ieri mattina presso il Palamonti di Bergamo, ha ufficializzato le proprie richieste in merito alla proposta di legge regionale che verrà discussa venerdì prossimo, che riguarda l'utilizzo delle motoslitte. In un comunicato diffuso al termine dell'incontro, le sezioni e sottosezioni CAI della provincia di Bergamo esprimono la loro profonda preoccupazione su questa proposta di legge regionale. Da una sua lettura attenta, appare evidente la volontà di permettere a questi mezzi motorizzati di muoversi liberamente in tutto il territorio montano, senza tener conto della fragilità dell'ambiente alpino e della fauna selvatica, che in inverno vive uno dei momenti più cruciali per la sua sopravvivenza. Inoltre non si tiene in alcun conto l'incolumità, la sicurezza e il rispetto di tutti gli sci alpinisti, sci fondisti e tutti gli escursionisti con o senza ciaspole che frequentano la montagna nel periodo invernale. Entrando nello specifico, il CAI propone alcune modifiche alla proposta di legge. Si chiede innanzitutto che alla conferenza di servizi, che deve decidere sul transito delle motoslitte in montagna, siano ammessi anche il centro nivo meteorologico dell'ARPA e tutti i portatori di interesse, in particolare coloro che si occupano di tutela del territorio, come le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero. Il CAI propone inoltre che ogni provincia individui i percorsi, localizzandoli in prossimità di territori già antropizzati, per esempio vicino a compressori sciistici già esistenti, e che l'autorizzazione alla circolazione delle motoslitte debba essere rilasciata non da soggetti privati, ma solo da un soggetto pubblico, nello specifico i comuni, presso i quali deve essere mantenuto anche un registro degli utenti e dei mezzi autorizzati. Il CAI chiede anche che chi sarà autorizzato a muoversi con una motoslitta dovrà dimostrare di saper utilizzare le apparecchiature per le ricerche di persone travolte da valanghe, conoscere le principali problematiche delle valanghe e i rischi di una montagna innevata. Le sezioni e sottosezioni CAI della provincia di Bergamo ritengono necessario costituire un ampio tavolo tecnico di lavoro con tutti gli enti e le associazioni interessate per individuare una regolamentazione sostenibile e condivisa per l'uso delle motoslitte.